Emanuele Fanelli, siamo qui per parlare di questo film a piedi scarsi, tra pochissimo, al cinema. E questo è un film che sta diventando un vero e proprio caso nel panorama del cinema italiano, perché è un esperimento. Ce lo vuole spiegare meglio lei che proprio la protagonista? Sì, Duilio, grazie mille innanzitutto per avermi invitato a parlare di questo film che possiamo definire una vera rivoluzione nel cinema italiano. Perché a piedi scarsi è il primo film in cui abbiamo provato a far recitare, tieniti forte, degli attori romani. Cioè, mi stai dicendo che i romani sanno recitare quindi? Sì, lo so, chiamami pazza, chiamami pure visionaria, però questo gioiellino secondo me aprirà nuove frontiere. Il dialetto romano al cinema è quello che stai dicendo? Sì, sì, finalmente sì, questo dialetto tanto, forse troppo snobbato dal cinema italiano fino adesso. Dai, Duilio, non voglio fare polemica, però è indubbio lo strapotere nel cinema italiano degli attori Valdostani, Altatesini. Molisani, insomma. Molisani, e ci siamo capiti, a chi ci stiamo riferendo facciamo nomi. A piedi scarsi è tutto ambientato a Roma e in periferia dunque? In periferia, bravo, l'hai notato? Non l'abbiamo sottolineato molto. Guarda, ti dico, con a piedi scarsi la cosa principale per noi era far conoscere al grande pubblico degli attori che al cinema non aveva visto mai. Ma sei callata in questa periferia romana? Non se può vivere così in periferia romana, con tutto sto disagio e senza ventilatore. Ma che devo fare io? E se io mi immo di Spina Ceduca, un'altra periferia romana, sei accantata sui domiciliari? Chi è? Chi è? Chi è? È Zelletta? No. Tu la devi fare finita con questi giri loschi che ci hanno molto a che fare con l'abitudine della periferia romana di scassinare le automobili artrui e portassele via. Questo lo so fare io, in periferia romana. A chi toccanze ingrugna. Costeria numero mille. Oggi ci siamo, domani puro. Ma chi ci fa male se la pianta? Papà. Bella te papà, dimmi. Sto scarsa. Pur io sto scarso. Stiamo tutti scarsi. Sai che obiettivamente Roma al cinema proprio non riesco a immaginarmela. Però guarda che Roma è bella, Duilio. Oh, Roma è bella. È un discorso d'abitudine. Perché tu sei abituata ad andare al cinema e che vedi Val di Susa, La Spezia, Pesca a Sero lì. Invece io ti garantisco che quando vedrai a piedi scarsi mi dirai Emanuela ma lo sai che è proprio bella Roma al cinema? Vedremo. Amo, stai a pensare una cosa. Sì, però meno vivace. Ah, scusa. Siamo mesti, depressi, in periferia romana. Sì, c'è ragione. E non mi devi manco rispondere subito. Se fanno le pause lunghe. Ci passano i treni tra una battuta e l'altra. In periferia romana. Ho capito. Allora proviamo così. Amo. Sto a pensare. Di cosa sti ragazzini noi gli potremmo comprare scarpe? Almeno. Lavamo gli elisti piedi. Lavamo gli elisti piedi. Bellissimo. Mamma mia, Giulio, c'ho i brividini proprio. Grazie, Emanuela. Quindi, tra poco, al cinema a piedi scarsi. Grazie mille. A piedi scarsi.